PEDALANDO I premi sono tanti. Premiera è diventata quasi una moda. Spesso i premi sono meritati, a volte vengono assegnati semplicemente a fini pubblicitari. Ne nascono ovunque, a seguito di ragioni impensate o per ogni sorta di pretesto, ma ci sono premi e premi. Premi frivoli e premi motivati. Il premio Bardelli lo riceve chi da sempre combatte violenza e marcio nello sport. È figlio della provincia, ma si assegna in città. La città in questione è Pistoia e la simbologia che lo contraddistingue è caratterizzata da elementi che hanno da sempre costituito il patrimonio storico, artigianale e gastronomico di un territorio conosciuto per le piante e vivai. I confetti, che qui si chiamano brigno colosi, la lavorazione del rame, nel nostro caso ha come simbolo la mezzina toscana e il fregio robbiano dell'ospedale del Ceppo. Pronti a fare un giro in giostra a ritmo di blues? Non è la prima volta che ci incontriamo, capita a distanza di pochissimi mesi, con piacere che ritroviamo a un premio importante, il premio Giampaolo Bardelli o Omar Beltran per un libro, il doping ecologico, i segreti per vincere con l'allenamento mentale. Un metodo, lo possiamo definire benissimo così, un metodo che praticamente comporta una reazione che mette davanti ad ogni problema un'opportunità. Sì, fondamentalmente è questo, cercare di allontanarsi dallo stress del risultato che ti porta a scendere a compromessi. Se tutto lo portiamo al risultato, allora va bene qualsiasi mezzo. Invece il risultato è un premio ad un processo, un processo etico, un processo nel quale puoi sviluppare le tue capacità attraverso quelle che sono le tue risorse. Omar, questo libro ha una prefazione, la scritta, fra le tante, che ha scritto in vita un amico comune, Franco Ballerini. C'è una frase in questo libro che dice, quello che stimola tutti i colleghi, tecnici e corridoni è il continuo a tenere acceso il numero della curiosità e la voglia di apprendere. Si parte proprio da quello, curiosità per riuscire a trovare un qualcosa di bello nello sport. E in realtà, essere qui a Pistoia e parlare di un amico come Franco mi mette un po' di commozione, un po' di emozione. Ho conosciuto Franco quattro anni fa e lui si è dimostrato da sempre curioso e ogni iniziativa, ogni cosa, lui dimostrava curiosità e voglia di progredire, di migliorare per aiutare i suoi. C'è nel libro, e questa è una curiosità che ho notato, una serie di riferimenti ad aneddoti o frasi fatte da grandi scrittori, da matematici, filosofi, ne cito alcuni, c'è Elliot, c'è Pitagora, c'è Archimede. Ecco, questi progetti, fondamentalmente, nell'apprendere certi concetti funzionano? E funzionano molto, sai, noi abbiamo imparato gran parte di quello che abbiamo imparato attraverso le metafore raccontate dai nostri genitori, dalle favore. I grandi pensatori, già dall'inizio della nostra cultura, della nostra civiltà, pensavano che dentro di noi ci fossero delle forze incommensurabili, che bisognava semplicemente lasciare andare. Tu dici anche una cosa importante nel libro, che forse il male più grave è la capacità di non ascoltare. Prima bisogna ascoltare quello che l'animo, il cuore ci comanda e poi dirigere questo verso gli altri. Purtroppo viviamo in una cultura nella quale impariamo tanto, impariamo tante cose, ma nessuno ci insegna mai ad ascoltare e di conseguenza non ci ascoltiamo. Mio padre diceva che se ci hanno dato una bocca e due orecchie, fondamentalmente c'era un motivo saggio. Complimenti al Doping Ecologico, complimenti a Omar Beltran, grazie. Marisa Grasso Raciti, una presenza importante, con grande onore, che onora soprattutto il premio Bardelli. Lei ha parlato in sala ed è stato uno dei momenti più emozionanti di questa avventura che si è appena conclusa. Bisogna fare prevenzione, cioè non si può più nemmeno sopportare cose come quella che è stata coinvolta il suo marito e purtroppo ci ha lasciato, della guerriglia urbana. Non solo prevenzione, cioè le scene di violenza esistevano dal prima del 2 febbraio 2007 e purtroppo continuano ad esserci. Beh, io ho visto il risultato della violenza, cosa può portare? Può portare anche la morte, dalla morte nascono anche altri sentimenti. Siccome tutti abbiamo diritto di vivere in un paese civile e vivere di questo dono, nessuno ci può privare di questo dono e nessuno può maltrattare la dignità lavorativa. Alla fine bisogna andare allo stadio per divertirsi, per trovare un momento di felicità e basta, non per far violenza ad altri. Nessuno può permettersi di esprimersi con gli atti, con altri, con atti di violenza e non si possono accettare. Quindi prevenzione, azione e rieducazione. Perché oltre alla prevenzione e all'azione bisogna rieducare chi non è stato o non è capace di rispettare le regole e rispettare di conseguenza gli altri. Tra le sezioni del premio Gian Paolo Bardelli c'è una riservata alle tesi di laurea. Quella di quest'anno premia una studentessa di Scienze Motorie, Facoltà di Torino, Giulia Caselli, per una tesi. Due parole che fanno paura, GH. Due lettere pericolose, GH, sì. Il GH è l'ormone della crescita. Diciamo veniva usato perché io la tesi l'ho fatta nel 2002 e attualmente il GH non è quasi più usato. Vengono usati altri tipi di sostanze dopanti. Però a quei tempi il professor Pasquale Bellotti con cui io ho discusso la tesi, aveva fatto uno studio sul GH e quindi ne ho approfittato avendo lui come professore per discutere questa tesi. Come nasce questa idea? Nasce proprio perché il professore Pasquale Bellotti era a suo tempo nella commissione scientifica antidoping del CONI e quindi si occupava di tutto l'asto del doping del CONI. E quindi ho avuto questa occasione e ho approfittato. Oggi lo dicevi in sala, le due lettere in questione del GH sono due lettere che fanno paura in questo ambiente dello sport che spesso purtroppo ci sono più di un caso che ne hanno fatto uso. Sì, sicuramente sì. Poi le sostanze dopante hanno degli effetti devastanti sugli atleti, sull'essere umano. E' questo che bisogna diffondere, cioè portare a conoscenza gli sportivi di quanto queste sostanze siano dannose. Il bello Giulia forse è il tuo presente attuale che pochi giorni fa, ne parlavamo quest'oggi durante l'assignazione del premio Bardelli, ti vede protagonista insieme a tanti bambini. Sì, ho un'associazione di ginnastica artistica. Fra l'altro lo spazio che abbiamo è uno spazio comunale, non ci basta più e quindi abbiamo anche il progetto di fare una cosa nostra, quindi di prendere uno spazio e di attrezzarlo proprio per la ginnastica artistica, che è uno sport, diciamo, tra virgolette minore. Ebbene, anche gli sport minori hanno giustamente bisogno di spazi, di poter svolgere delle attività che sono fondamentali anche dall'infanzia fino alla crescita e magari, chissà, da quella scuola, da quella palestra, qualche campioncino. Speriamo, speriamo che nasca. Rossella Barni, per un progetto con l'Istituto Comprensivo, il secondo Istituto Comprensivo di Monsummano, un progetto che è legato a questo premio Bardelli in questa edizione. Ieri sera c'è stata la serata bellissima al Teatro Yves Montan, i bambini per lo sport e per crescere insieme. Sì, al nostro Istituto Comprensivo portiamo avanti un progetto dal titolo Scuola e sport insieme per crescere, che poi ha dato il titolo anche allo spettacolo di ieri al Teatro a Monsummano. Noi con questo progetto intendiamo portare avanti quelli che sono gli ideali, secondo noi, principi cardine dello sport, ma soprattutto della vita. Perché secondo noi lo sport è una disciplina trasversale che abbraccia tutta la vita dei nostri ragazzi, dall'italiano, perciò riflettere sugli ideali dello sport, leggendo poesie, componendo temi e la musica. Praticamente si portano avanti quelli che secondo noi sono gli ideali da perseguire sempre nella vita, come solidarietà, fratellanza, rispetto delle regole, pace, rispetto dell'avversario, rispetto del proprio corpo e quindi anche antidoping. Ed eccoci perché siamo qui al Memoria al Bardelli 2010. Quello sono i principi fondamentali di ogni disciplina sportiva, a partire fondamentalmente, credo sia la principale, il gruppo. Sì, infatti, per noi il gruppo dei pari è la medicina principale, diciamo, per i nostri ragazzi, perché stando insieme sperimentano quelle che sono le relazioni che un domani serviranno a loro per vivere e convivere come cittadini italiani corretti. Un progetto che vede più di 100 ragazzi sullo stesso palcoscenico, quanto è difficile organizzare? È stato abbastanza difficile, dico la verità, perché 100 ragazzi su un palcoscenico, in un teatro che non è della scuola, ma è del comune, e perciò abbiamo dovuto mettere insieme le esigenze della scuola, del Memoria al Bardelli, dell'ente locale. Non è stata certo una organizzazione facile, ma il risultato finale ci ha ripagato di tutti i problemi che abbiamo dovuto affrontare. Infatti, mi anticipo un po' la domanda, cosa ripago un evento del genere? Guardi, secondo me questa è una delle soddisfazioni, è la soddisfazione professionale più grande. Io sono da 35 anni nella scuola, perciò ho sperimentato esperienze positive e negative. Questa credo che sia insuperabile. Non potrò raggiungere un livello così alto mai più, credo. Ecco, una soddisfazione così grande è veramente troppo grande per me. In bocca al lupo per quello che arriverà. Grazie, chissà, vediamo. Grazie. L'occhio di riguardo del Premio Bardelli è soprattutto verso i giovani. Ce n'è uno che sicuramente il pubblico degli sportivi del ciclismo conoscono per un caso che ha fatto parlare di sé. Un caso che purtroppo è un caso relativo al doping, un personaggio che questa vicenda ha colpito particolarmente. La vicenda di Gianni Obani. Ben trovato. Innanzitutto buonasera e volevo ringraziare il dottor Bardelli di avermi invitato, di avermi creduto, anche se in un primo momento mi andava contro. Comunque è stata una grande persona a darmi fiducia e oggi essere qui. Essere qui per me è molto importante per far conoscere ancora una volta la mia storia che penso che sapete tutto, che in breve ripeto, sono stato trovato positivo nella sostanza che da solo non ho mai assunto. L'unica iniezione che ho fatto è stata la squadra e penso che il campo si restringa. Dopo aver fatto nomi, circostanze e cognomi, l'unica a pagare sono io. Mi trovo con due anni di squalifica e gli altri sono a piedi libero. Non so se questo è il modo di levare il doping da giovani, non penso, perché un giovane da solo è difficile che assuma delle sostanze spontaneamente. Sempre dietro qualcuno a comandarli. È da qui che bisogna partire per levare il doping da giovani. Da questi manipolatori che cercano di convincere i giovani in tutti i costi pur di vincere. Eugenio, questo discorso è un discorso che ha preso in esame la magistratura. Non posso sapere qual è la tua colpevolezza, quello che accadrà, perché c'è un'indagine in corso e quindi è tutto in mano ai magistrati. C'è fondamentalmente un fatto che i 21 mesi che ci sono stati dati di punizione al momento nessuno, quanto riguarda una punizione verso la squadra, semmai ci sarà qualcosa, non è stata ancora fatta. Sì, sicuramente ora la squalifica mi ritrovo io. Come ripeto ancora una volta, dopo aver collaborato, da cui mi è stato riconosciuto anche la fattiva collaborazione del TNA, non c'è stato ancora preso nessun provvedimento disciplinare riguardo alla squadra. Non so se... Io spero che verranno attuati e conclusi questi accertamenti e vedremo cosa fare. Non so, io non posso sapere niente e vedremo le indagini. Ecco però, adesso ti faccio anche l'avvocato del diavolo. In un caso come il tuo, è un caso particolare, però tu con i tuoi genitori sicuramente avrai un colloquio tra genitori e figlio. Sì, sicuramente i miei genitori mi hanno assistito in tutto e per tutto, perché a me credono, perché penso che io sono in buona fede, vado a testa l'altro, non ho niente da dimostrare. I miei genitori mi supportano, anche loro vanno contro gli altri e soprattutto mi sostengono in tutto e per tutto, danno un modo di continuare la mia vita, una vita normalissima, anzi, più cattivo di prima e dimostrare a tutti gli altri quello che valgo veramente. No, ma dicevo, relativo proprio a quel caso lì, il colloquio che tu hai fatto con il ricercito, nel momento che questa pratica, che magari definiamola pure così, questa pratica è stata fatta, tu parlando con i tuoi, quella sera, tu dici che la sostanza si assume soltanto tramite iniezioni, al momento che vengono fatte delle iniezioni, tuo padre non è stato contrario? Sì, io ho sempre detto che mi avevano fatte queste iniezioni, punture, ma in una squadra io pensavo che fossero cose ovvie, naturali, che tutte le facessero e io andavo dietro a loro, tutti le facevano, i miei compagni le facevano, mi veniva detto che sì, sono vitamine, eccetera, è normalissimo, anche in tutte le altre squadre le fanno e quindi alla fine uno si fida. Scusa, ma oggi dimarcio in questo sport, nel nostro, ma poi in tanti altri lo sappiamo che esiste. Sì, sì, ma sicuramente esiste queste cose, però non pensavo che addirittura a questi livelli potessero arrivare a darti cose, doping, e poi la cosa più brutta è che vengono date a tua insaputa. Se uno era consapevole, poteva dire, ma è colpa mia, sono stato io che l'ho assunta. È uno sbaglio tuo, forse fidarsi da troppo giovane. Sì, fidarsi sicuramente ora è uno sbaglio grossissimo e non c'è pochissime persone anche da fidarsi, anche le più care, perché questo è un mondaccio e fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Idealmente vado al giugno 2011, quando questa squalifica dovrebbe finire, io ti auguro anche prima di quella data lì, in quella data lì cosa ti aspetti? È una riscossa, una rivincita? Ma io ora mi sto allenando, ora il mio scopo principale è finire la scuola qui, ho la maturità a giugno, poi passata questa mi dedicherò agli allenamenti e alla ripresa della mia forza e tutto e quando arriverà giugno prossimo sarò pronto per correre e dimostrare a tutti che correndo pulito si può vincere. E in quel caso con una squadra di professionisti. Sì, ne approfitto anche per ringraziare Fanini che mi ha ingaggiato nella sua squadra a malavvita e anche lui mi ha creduto e spero di dimostrare a tutti che anche in quella squadra, correndo come ripeto puliti, possiamo vincere. Allora in questa mese da febbre del sabato sera, ed è ancora questo sabato sera diventi il punto di partenza di un periodo bellissimo che ti porti fortuna e magari di risolvere questo problema un quanto prima. Grazie mille. È un personaggio straordinario, per non dire unico nel suo genere, premio Bardelli 2010 a Giuliano Calore. Ben trovato, dopo tanti anni ci ritroviamo, una volta è capitato di incontrarci in occasione di un Giro d'Italia. Una disciplina, la tua, difficilissima a farsi. Ma questo sarebbe il ciclismo estremo. Qui naturalmente non abbiamo le montagne dove mi esibisco. Ho fatto una cosa di abilità, ma le mie imprese non sono famose solo per l'abilità e l'equilibrio che è spaventoso, ma anche per i tempi che ho ottenuto sono ben 12 volte negli inesprimati. Quindi ho tempi straordinari, come per esempio i 14 famosi passi dello Stel... No, scusa. I 14 passi dolomitici, si parla di 330 chilometri senza manubrio salita e discesa, che è stata un'impresa che anche Fogar, durante la trasmissione Canale 5 e altri, hanno definito una cosa addirittura non solo straordinaria, ma unica nella storia del ciclismo. Anche perché Giuliano, ricordiamo, lo Stelio sale fino a 2758 metri. Esatto, sono i famosi 48 tornanti. Non è come il Pordoi, il Pordoi è un cavalcavia al confronto. Poi quando io ho fatto i miei record, lo Stelio non è come adesso, c'era anche la ghiaina in qualche tratto, quindi c'era il ponte di legno, quindi è un'impresa che ha impressionato il mondo sportivo. Questo è uno dei miei record. Poi si parla della salita all'Ostelio con una gamba sola. Salita all'Ostelio con una gamba sola quando l'ho annunciata all'Hotel Gallia di Milano, mentre Pizzoli mi premava con la medaglia d'oro che c'era anche Binda, i più grandi campioni, e dice, adesso ti abbiamo appena pelato la medaglia, perché mi viene a dire che scali l'Ostelio con una gamba sola è talmente assurdo per noi che è già difficile scalarlo con due gambe attaccate al manubrio. Dopo un mese ho mantenuto la promessa, ho avuto una miridea di medaglie d'oro, ha stupito tutto il mondo ciclistico. Poi devi pensare che in queste condizioni di instabilità incredibili io devo anche stabilire dei tempi straordinari perché se io salgo l'Ostelio con una gamba sola devo tenere un ritmo infernale. Pensare solo che l'Ostelio l'ho scalato in un'ora e 36 minuti, 25 chilometri in un'ora e 36 minuti è pazzesco. E ricordo anche che hai un tempo inferiore a quello di Ino. E certo. Controllando la Gazzetta dello Sport che mi ha fatto servizio speciale ancora nell'83 ho saputo che Bernard Ino ha staccato l'italiano Panizza portandogli via la maglia rosa e ha vinto il Giro d'Italia proprio da quel punto. Mi sono informato dove era il punto che lo ha staccato, sono andato con 5 giudici di corsa perché per entrare negli inesprimati non basta la televisione, non bastano i giornalisti, ci sono i giudici. E lì ho stabilito un tempo incredibile. Ho fatto un'ora e 17 primi 18 secondi cioè due minuti e qualche secondo meno di Bernard Ino e senza manubrio. Naturalmente lui aveva 14 chilometri più di me però l'attacco l'ha fatto lì. Se consideriamo la mia età che era già, adesso ho 72 anni l'ho fatto a 47-48 anni. Il record a livello medico-scientifico è spiegabile, tanto è vero che adesso io faccio il mio film per le scuole, è un successo incredibile. Ho aperto i giochi di Taiwan con 26.000 atleti in Cina quest'anno e mi hanno scelto come l'atleto più rappresentativo per aprire i giochi perché vedendo la mia età e vedendo i miei record hanno stabilito che l'integrità mia fisica è una dimostrazione che non occorre prendere quelle porcherie per arrivare a grandi livelli quando ci sono delle capacità ma anche di grandi sacrifici. Questo è il messaggio che io porto ai ragazzi perché io sono sicuro che ogni uomo ha un potere mentale veramente spaventoso forse non lo sa sviluppare fino in fondo questo potere mentale. Io quando mi dicevo un impossibile mi affascinava. E' un po' il concetto del libro di Beltran che è stato presentato e premiato quest'oggi. Certo, è un esempio. Io sono stato scoperto a tarda età da un musicista io ero famoso come pianista tra l'altro non come ho avuto soddisfazioni ho inciso dischi con Patti Bravo, giusto? Certo, abbiamo annunciato noi la Patti Bravo era la cantante era l'amorosa del nostro cantante Gildo Fattori, strange ma noi avevamo orchestre famose ma ho scoperto un musicista e mi ha costretto a fare tre gare tre gare ho distrutto 900 scalatori alla faccia allora addirittura ho vinto in Vado Aosta con 11 minuti di stacco e tutti pensavano che io continuassi a correre però la gara non mi dava più quell'entusiasmo una volta che ho capito che madre natura mi aveva dato diciamo delle cose che io non sapevo di avere ho detto perché non sbalordire i più grandi campioni facendo imprese uniche nella storia del ciclismo e da allora dalla prima impresa che è stata subito ripresa da Rai 1 poi altre riprese dalla Rai da Calale 5 ogni anno volevo superare me stesso era una continua ricerca dell'impossibile mi affascinava l'impossibile e quando gli stessi campioni mi diceva impossibile scalare 48 tornanti con una gamba sola impossibile scalare con 48 tornanti di ghiaccio facendo girare la ruota di ghiaccio allora è vero nel tuo caso che hai detto niente è impossibile niente è impossibile per me e io quando faccio il mio film per le scuole faccio poi l'esibizione faccio vedere le mie capacità e i ragazzi credono non più alle parole anche a qualche medico non credono più che purtroppo sono quelli che sono i primi levando naturalmente i medici onesti ma ce ne sono anche i disonesti che rovinano i ragazzi da 15 anni e questo è dove io mi batto per quello mi hanno chiamato a Taiwan per quello adesso gli stati amministrati in America addirittura richiedono i miei servizi per portare questo messaggio meraviglioso di antidoppi per i giovani e il prossimo record il prossimo record potrebbero essere tre uno che mi è rimasto sempre che non l'ho mai attuato per ragioni televisive più che altro la discesa di notto senza manubrio senza freni col raggio laser come è possibile se è le cose impossibili io ho già fatto questo in prova e ho superato i più grandi tornanti e ho avuto una caduta perché ho preso un sassolino dopo aver fatto già i più pericolosi 25 tornanti quindi io l'impresa ce l'ho in pugno come si fa? se lei mette il raggio laser non vedi due lati è impossibile e allora come si fa? metto il raggio laser alla destra dove c'è il parapetto dopo c'è il burone ecco distingue la distanza che ti occorre tra me e il muretto di protezione prima dell'abisso e in base a questa distanza io riesco a scendere dai 48 tornanti senza manubrio senza freni è un'impresa che io ho già realizzato dovrei fare in dall'ufficiale dopo i 12 tornanti quando una cosa l'ho realizzata mi resto sullo stomaco solo che è molto pericolosa e non può essere ripresa la televisione altrimenti mi fa chiaro quindi ce l'hanno i giornalisti e questo mi ha lasciato un po' lì io intanto do un consiglio a quelli che ci stanno seguendo da casa non provateci non provateci perché non so come andrà a finire grazie a Giuliano Calore non provate le discese diciamo provate il resto grazie a Giuliano Calore premio Bardelli edizione numero 26 Memorial Giampaolo Bardelli non possiamo non incontrare quello che è il patrone l'idiatore e il promotore di questo premio Renzo ci eravamo lasciati esattamente un anno fa con l'ultima frase del libro Generazione Epo in cui ci si auspica un ciclismo che possa viaggiare finalmente su delle strade oneste e leali quella strada è una strada da come ci siamo lasciati un anno fa percorribile lo dimostra un premio che ogni anno viene consegnato a persone che lottano per questo sì strada percorribile sì percorribile a fatica questo memoria di quest'anno ha dimostrato che indubbiamente cresce la consapevolezza che così non si può andare avanti cresce la voglia di dare una svolta cresce la qualità delle persone che si stanno impegnando e anche il nuovo fronte che il memoria l'ha aperto cioè di abbinare la lotta al doping con la scorsa della testa del tifoso quindi con l'appoggio dell'iniziativa del ministro Maroni di provvedimenti anche duri verso coloro che fanno violenza negli stadi e fuori degli stadi e deturpano poi l'evento calcistico dimostra che siamo su una fase nuova sullo sfondo del quale e comunque nel quale si agita ancora troppa gente che hanno fini che non sono accettabili e che hanno metodi che sono chiaramente non condivisibili e violenti Renzo lo sport generalmente oggi si muove su un campo quello dello spettacolo allora ti chiedo questo lo spettacolo in funzione dello sport quanto influisce e in particolare il nostro settore quanto il ciclismo è spettacolo? il ciclismo è certamente uno spettacolo io dico però che lo spettacolo più bello del mondo è troppo più bello a mio parere la mia delusione del ciclismo è proprio quella che era un grande giocattolo il ciclismo le sensazioni del ciclismo non sono mai circoscribili in un'arena distinta le emozioni del ciclismo io le ho provate quando ho cominciato a girare il mondo a vedere i grandi percorsi delle classiche del nord per esempio che non hanno l'eguale dove c'è una passione una simpatia una sportività eccezionale che noi in Italia non conosciamo neppure dove ci sono dei percorsi belli dove tu vedi maree di gente che non dormono fanno chilometri a piedi e comunque vivono lo spettacolo con grande passione ecco gli attori i principali di questo spettacolo e cioè i giocatori di calcio cioè i ciclisti devono tenere conto degli sforzi che tanta gente fa per vederli e che non può poi dubitare che lo spettacolo di ciclismo trasmette è truccato o è finalizzato o intorbidato da altri da disvalori e da top interessi spettacolari soprattutto nel calcio che però sono interessi spettacolari che obbediscono ad altre logiche economiche tra onestà e barare oggi il velo sottilissimo che le divide è veramente sottile e troppo spesso oggi si cerca di strapparlo questo velo allora chi cerca di passare da uno sport onesto allo sport barato è follia o quant'altro? no non è follia è che bisogna avere la consapevolezza che ormai c'è un grosso grumo di interessi per lo sport e il spettacolo cioè ci sono interessi economici di gruppi di gruppi di tanti gruppi di forze economiche di persone materializzate insomma se i più grossi imprenditori chiamiamoli imprenditori stavo curioso ad un altro termine ma rimaniamo alla parola imprenditori se i più grossi imprenditori italiani sono presidenti di squadre di calcio questo assume un significato ben preciso vuol dire che c'è chi ha non tanto investito hanno anche investito ma soprattutto approfittano dello spettacolo che il gioco del calcio offre per i loro interessi e stiamo vedendo che i loro interessi sono finalizzati ad altri ad altri interessi e non tanto allo spettacolo pulito al gioco corretto e quindi la deviazione che c'è della natura dello spettacolo è imputabile a chi lo ha snaturato i confini del premio Bardelli tu parlavi poco fa che si aprono anche al mondo del calcio giustamente con la testa del tifoso quest'anno con una porta in più aperta quella verso i bambini perché c'è una manifestazione proprio ieri al teatro di Monsumano dedicato a Yves Montan che riguarda i più piccoli ieri è stata una cosa incredibile io quel filmato che abbiamo girato e tutto lo spettacolo l'ha visto l'ha riflettuto è stata davvero una nuova frontiera vedere che cento ragazzi di 10, 11 e 12 anni hanno per mesi sono adoperati per uno spettacolo che abbina cultura e umanità che abbina intelletto e socialità che soprattutto pone a loro dei problemi avere visto un giovane ciclista di 9 anni che parlava del suo sport e del futuro che fa già il ciclista a 9 anni come lo vuole avere che a 9 anni si pone già l'interrogativo e sa che troverà degli ostacoli tra chi magari cercherà di deviarlo dalla retta strada e di doparlo ecco sono esempi che mi hanno colpito mi hanno commosso anche però mi hanno fatto intravedere che insomma la semina che cerchiamo di fare può produrre dei buoni frutti e comunque comincia a reagire anche a trovare delle reazioni che a me farà piacere io ti prendo un punto di riferimento potrebbe essere sul calendario il mese di aprile 2010 ma potrebbe essere un qualsiasi altro punto del calendario prendiamo l'anno 2010 sportivamente parlando oggi qual è la tua paura più grande? ma la mia paura più grande non lo so bisogna vedere a cosa si riferisce la mia paura più grande è quella di sempre che cioè le forze del male gli interessi economici sono quelli che avendo grossi strumenti potenti a loro disposizione riescano a deviare dalla retta strada quelli che devono essere naturali e scontati in un certo senso andamenti dello sport etico oggi c'è una cosa che è risultata agli onori della cronaca qualche tempo fa e per la prima volta un papa benedetto XVI parla della parola doping quasi fosse un peccato punibile da Dio tu dicendo questa frase non puoi sapere qual è la mia risposta non la so io sto attendendo da un secondo all'altro che telefoni un incaricato dal vescovo di Pistò e da Roma per annunciare se per confermare se il 19 maggio noi andremo a dare il memoria al Bardelli a Dio abiletto XVI abiletto XVI perché il papa proprio il 7 novembre scorso infatti l'ora tutti si è letta sul giornale io appunto io ho il testo il 7 novembre scorso ha pronunciato un grande discorso antidopiche che io ho preletto dal attrezzo internet sul osservatore romano ne ho il testo un discorso bellissimo ancora più bello di quello che fece l'altro papa che premiamo già nel 2001 e allora mi sono incontrato col vescovo gli ho chiesto se interveniva sul papa mi ha promesso di sì oggi il vescovo è a Roma avrebbe visto non tanto il papa in persona ma soprattutto avrebbe visto qualcuno dell'entourage del papa e si è impegnato a farmi sapere entro stasera arrivano gli eredi nel frattempo si si è la mia nipotina si è impegnato a farmi sapere entro stasera se il 19 maggio come data è confermata per la consegna al papa del memoria non l'ho voluto dire stamani perché proprio perché c'era tanta gente e non non volevo insomma strabordare però è certo questo sì che prima o poi può non essere il 19 maggio ma sicuramente nelle settimane o nei miei successivi noi andremo dal papa e gli daremo questo omaggio perché so che l'entourage di questo papa ha già apprezzato la proposta proprio collegandola a quel discorso che lui fece e che quindi era un discorso certamente elaborato dallo stesso entourage del papa ed è proprio l'entourage del papa che mi risulta abbia già manifestato piena condivisione all'accettazione del nostro premio il premio di quest'anno si è aperto con una frase bellissima detta in memoria di un ispettore purtroppo magistrato che purtroppo si è andato la frase è questa la gente ha bisogno di giustizia sì certo l'abbiamo aperta non a caso insomma un discorso della legalità che noi abbiamo introdotto è un altro dei discorsi che sono riconducibili a quelli che io chiamo i principi indefettibili della vita o la gente si abitua a rispetto dei principi fondamentali della vita tra cui la legalità l'ordine la disciplina la meritocrazia la managerialità il buonsenso il senso del dovere i propri diritti ma appunto anche i propri doveri finché non sposa tutti questi ingredienti che sono poi la parte vera il nervo costitutivo della società le leve attraverso cui la società può progredire io sono uno che mi ricordo il miracolo economico degli anni 60-70 io ho vissuto la guerra i tempi di guerra ero un bambino mi ricordo gli stenti di allora ma mi ricordo anche il grande spirito di rinascita che c'era nell'Italia quando io ero giovinito quello spirito si è disperso completamente vorrei che le generazioni di oggi lo riprovassero usavo dire giorni fa le mie nipotine appunto quando si diventa nonni si cambia anche noi le mie nipotine mi sto chiedendo ma in quale società vivranno se si continua di questo passo questo nostro incontro lo chiudo qui prendendo di prestito una canzone voglio chiudere quest'anno in un modo diverso che questa canzone è uno dei pezzi credo più famosi di Loretta Goggi dell'area del sabato sera quest'area di questo sabato sera che sapore ha? beh dunque allora l'ultima domanda la voglio concludere più o meno con l'anno scorso vedi Roberto quando mi fa le interviste io ritengo che alle conclusioni a cui pervengo che le mie risposte sono le migliori tutte le interviste che mi vengono fatte perché forse è il tipo di domande che tu fai riflettute molto intelligenti che vengono da una persona che è già sicuramente intelligente e allora quindi l'area di stasera vista attraverso le tue domande beh la voglio vedere in modo positivo in modo pensare bene e pensare al meglio ecco quindi tu mi hai suscitato questo sentimento e ti ringrazio grazie a te sabato sera dovrebbe essere una sera come tante altre la stessa sera che finita un'intervista torni a casa in macchina inizi a pensare al prossimo viaggio spesso è così stasera qualcosa di diverso gira nell'aria di parole ne ho ascoltate tante la speranza è che non siano parole nel vento buoni propositi sulle labbra concretezze vaganti disperse in qualche galassia poi invece inizia il tempo della riflessione e mi rendo conto che viviamo e conviviamo in stato di guerra non ci sono armi anche se certi tipi di inganno a volte sono più devastanti e fanno più male di fucili e pistole ma lealtà e onestà cercano spazio fra gli uomini e continuano quella battaglia intrapresa da tempo per cacciare fuori dal tempio truffaldini e mercanti di menzogne così li ha chiamati Alfredo Martini del giorno più triste quello dell'addio e con loro tutto un movimento di ipocriti che cercano di farla franca per ragioni d'orgoglio e di successo via andatevene via fuori da qui non è sport questo è solo uno schifo il sole filtra attraverso gli alberi di una foresta buia e quel raggio che irradia la superficie di muschio che ricopre il terreno è il segnale della rinascita riprendo la strada di casa riprendiamo strade familiari ripensando alle parole di Marisa Grasso Raciti una donna una giovane signora in cui tutti ci siamo rispecchiati tre anni fa quando questo marcio chi vuole può chiamarla follia in una circostanza assurda la privata dell'affetto più caro ma è più guerriglia urbana distruzione scontri che niente hanno a che fare con la parola sport e ancora di più non sono parte del mondo dei giusti e degli onesti istituzioni società sportivi lo stato uniti nel nome della correttezza e della bellezza di ogni disciplina sportiva stasera un sabato sera un giorno dell'anno preso a caso sul calendario indice di riscatto e di riscorso rox un nome breve per camminare più a lungo rox un nome breve per volare sempre più in alto e di riscaldi